ciao a tutti oggi prepareremo i cornetti veloci al salmone il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti gli ingredienti sono pasta sfoglia rotonda filadelfia salmone il fumigato prezzemolo tuorlo d'uovo e latte per spennellare semi di papavero per decorare diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere la filadelfia il salmone affumicato ed azionare il bimbi per 15 secondi a velocità 6 trasferire il composto in una ciotola dividere la pasta sfoglia in otto parti mettere il ripieno alla base ed arrodolare formando un cornetto posizionare su una teglia rivestita con carta da forno spennellare col tuorlo d'uovo sbattuto con il latte pulverizzare con i semi di papavero e cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 15-20 minuti circa i cornetti sono cotti lasciare intiepidire prima di servire cornetti veloci al salmone grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti